E come dicevo alla fine è tornato anche il recap, dopo che sono tornato io, dopo che sono tornati i video di calcio, dopo che sono tornati i video sulla nazionale, dopo che è tornato il video sul tennis, su Wimbledon, alla fine è tornato anche il recap. E mi auguro di poter, non garantisco una particolarità che penso abbiate notato ormai è che io non sono un tipo da mantenere tanto le promesse. Per cui non garantisco ma spero ovviamente di poter da qui alla fine del calciomercato, con una continuità quasi quotidiana, di poter portare quantomeno il video del recap. Ma come avete visto in questi giorni penso di essermi fatto perdonare abbastanza pubblicando video e variando di argomento in argomento. Si parla di Toro chiaramente adesso perché il recap è dedicato ad un'unica squadra, cioè a questa, alla nostra mitica squadra che quest'anno si spera possa riscattarsi dopo le due annate. Di nuovo, come ho detto qualche video fa, ci sarebbero tanti modi per descrivere questa annata, ma mi limiterò a dire un'annata negativa. Quella passata l'anno scorso è ancora più negativa? O forse no? No, direi no, accettabile relativamente. Mi sono confuso con le idee, direi tutto sommato accettabile quella di due anni fa. Quest'anno serve riscattarsi, serve riscattarsi partendo anche da un buon ritiro in Val Gardena, come quello che si sta svolgendo in questi giorni con il Toro. Ho sentito Izzo, intervistato da Torino Channel, ho letto di... non so come... non ho ben capito ancora bene come si chiami. Per ora lo chiamo Warming, che come condizione fisica sta benino, potrebbe, anzi deve, senza togliere il condizionale, deve migliorare la propria condizione fisica per l'inizio della stagione. Ma in quanto a tecnica dovrebbe esserci come calcettore, sembra abbastanza talentuoso, sembra abbastanza promettente. Speriamo chiaramente che possa rivelarsi poi importante nel corso della stagione. Dicevo però, ho sentito le parole di Izzo, mi hanno tutto sommato convinto abbastanza, anche se dopo queste due ultime stagioni io tendo a diffidare molto anche solo delle dichiarazioni. Rimane comunque il fatto che Izzo ha visto bene Juric già a Genova, quando è stato allenato da Juric a Genova e adesso, insomma, l'ha ritrovato così com'era, con il suo carattere sanguigno, come ha detto. Lui non ha detto sanguigno, ma ha detto aggressivo, ma non violento nei confronti dei cacciatori. Cioè, intende dire quello che penso avete capito anche voi, un'indole sì cattiva, ma agonistica. Un'indole che tende a tirare fuori la grinta dai calciatori. Allenamenti intensi, allenamenti faticosi, allenamenti duri, ma che si augurano tutti possano servire. Possono bastare e avanzare per la preparazione fisica, tecnico e tattica per la prossima stagione. Ha detto anche che a livello personale gli piacerebbe poi riconquistarsi la nazionale. Insomma, ho visto un Izzo particolarmente motivato, sarà stata anche proprio la scelta dell'allenatore. Io spero che quanto dichiarato possa poi essere vero. Ma come vi ho detto all'inizio, tendo a diffidare ultimamente anche delle dichiarazioni, perché non molto spesso, scusate, sono state dichiarazioni che poi sono state dimostrate ampiamente sul campo. Parole molto spesso al vento. Quindi, insomma, per ora rimaniamo diffidenti, aspettiamo, speranzosi, come ogni anno. Però, ok, prendiamo queste dichiarazioni con le dovute pinze. Certo è che però, se qua ci sono degli ottimisti sempre al 100%, allora queste parole non possono che fare bene perché trasudano di ottimismo, trasudano di forza di volontà, di abnegazione, di dedizione, di determinazione, di impegno, di fatica, eccetera, eccetera. Vedremo, vedremo, quello che posso dire vedremo. Passiamo adesso un pochino al calcio americato con tre notizie. La prima, Orsolini, sembra praticamente blindato dal Bologna. Uno dei dirigenti del Bologna, non mi ricordo il nome adesso, ha dichiarato che non sono arrivate offerte da nessuna squadra per Orsolini e anche arrivassero al momento il Bologna tenderebbe a non operare più in uscita. Questo chiaramente mette, magari non del tutto, ma quasi una pietra sopra all'operazione Orsolini. L'operazione Orsolini a quale Toro stava pensando, non so con quali soldi, ma ci stava pensando. Passiamo poi a una bomba di qualche giorno fa, di ieri, in realtà, ma mi sembra doveroso comunque riportarla. Ne parleremo forse poi anche in un video a parte perché ormai queste ore sono cruciali, diciamo questi giorni sono cruciali, non si parla ancora di ore ma si parla di giorni perché sarebbe stato dato un po' dalla società, un po' anche dall'ambiente, un po' dalla Roma che sarebbe interessato al calciatore un ultimatum a Belotti per decidere se rimanere, se accettare l'offerta del rinnovo di cui poi vi andrò a parlare oppure se trasferirsi da un'altra parte. L'offerta del rinnovo, penso, chi l'abbia sentita, sia rimasto quantomeno con gli occhi sgranati perché è una cosa che non ci si aspetta, visti gli ultimi anni da Cairo. Evidentemente però non vuole perdere un calciatore che potrebbe fruttargli sicuramente qualche milione in più per non dire diversi milioni in più nel caso dovesse venderlo in condizioni normali. Mi sembra chiara quindi la volontà di Cairo di volerlo trattenere con un contratto di 4 milioni netti all'anno fino al 2031, cioè Belotti a vita, o quasi in sostanza, dato che Belotti tornerebbe in scadenza nel caso rinnovasse nel 2021 all'età di 32 anni. Insomma, mi sembra un'offerta di fronte alla quale, o 31 insomma, quello che mi sembra un'offerta di fronte alla quale sia difficile dire di no. Adesso Belotti è del 93, per cui... Sì, ma cosa dico? Ma sono scemo. Scusate, scusate, sono vecchio, scusate. 4 milioni all'anno fino al 2026, ecco perché non mi tornavo nei conti, per cui sì, Belotti arriverebbe ad avere 32-33 anni, si tratterebbe quindi praticamente di un Belotti a vita. Nel caso Belotti dovesse fare bene, poi forse potrebbe avere ancora uno spazio dall'altra parte, oppure un rinnovo qui a Torino. Nel caso dovesse fare male, invece, si tratterebbe quasi delle sue ultime apparizioni come calciatore professionista. Penso andrebbe a giocare in una squadra di livello inferiore, magari anche in una... insomma, si tratterebbe, come vi ho fatto ben capire, di un Belotti a vita dovesse accettare l'offerta di Cairo. Ho sentito a Sport Mediaset, oggi a pranzo, che al momento Mourinho si sarebbe già, diciamo, un po' fatto due conti e al momento si tratterebbe addirittura a Dzeko. Quindi si tratterebbe poi di rinnovare il contratto di Dzeko, ma questo è un affare della Roma. diciamo che è una notizia che fa bene sperare quelli che sperano in un rinnovo di Belotti. Economicamente parlando sarebbe la cosa migliore. Dare due milioni in più a Belotti o quasi all'anno per sperare dovesse mai essere venduto di poterlo vendere almeno, insomma, una quarantina, una cinquattina di milioni dovesse tornare a fare bene, chiaramente, perché io stesso in condizioni normali farei fatica, potrei immaginarlo, ma farei fatica a vendere Belotti a cifre del genere dopo l'ultima stagione, dove, insomma, quantomeno da febbraio, marzo in poi, non si è quasi mai più fatto vedere. Che dire, io mi auguro che Belotti rinnovi e i motivi ve li ho già un po' spiegati, tornerò a spiegarveli, perché è una questione importante, la questione di calcio mercato forse più importante per il Toro quest'anno. Insomma, è complessa come situazione, ma è chiaro che di fronte a 4 milioni la scelta è abbastanza netta, cioè, o rimani e ti prendi anche una bella cifra e inizi a giocare di nuovo a certi livelli, oppure te ne vai da un'altra parte e, boh, non è tanto difficile riflettere adesso. Ovunque andresti, insomma, guadagneresti in un certo senso. Da una parte, forse, se fossi in Belotti, penserei al fatto che alla Roma potrei puntare ad obiettivi un po' più alti, potrei avere ambizioni maggiori, dall'altra, però, 4 milioni, forse la Roma stessa non me li offrirebbe. È una questione complicata. Ci vuole anche un po' di attaccamenti in questi casi. Vedremo, 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 vedremo. Io fossi lui fare una scelta abbastanza netta, senza troppe difficoltà, però posso capire che qualcuno possa essere dubbioso riguardo se andare alla Roma o andare in un'altra squadra, oppure rimanere per 4 milioni. È una scelta complicata, perché comunque rimanere qua per 4 milioni significerebbe, sì, percepire una certa cifra, ma senza tante garanzie di poter tornare a giocare a livelli medio-alti come è stato fino a qualche anno fa. Scelta complicata. Scelta complicata. Ripetisco, io un'idea ce l'avrei, però lasciamo che sia Belotti decidere. Passiamo all'ultima, e qui, signori, caroselli, immaginatevi tutti i caroselli di questo mondo, scendete in piazza per festeggiare, perché sì, sembra fatta, il Benfica si è accaparrato mete per 7 milioni, cifra che mai mi sarei aspettato di poter guadagnare per mete, o quasi, 7 milioni, insomma, si deve ancora capire, perché la trattativa sarebbe quasi andata in porto, ci sarebbe addirittura già l'accordo con il Torino, ma come sapete poi ci sono ancora magari dei piccoli punti da sistemare, e, onestamente, quando si parla di mai te, io preferirei essere scaramantico e aspettare che mai te possa indossare ufficialmente la maglia del Benfica, vederlo in Portogallo, lì, tranquillo, buon, perfetto, 7 milioni li abbiamo presi, perché non si sa mai, non si sa mai, è sempre meglio essere scaramantici in certi casi. Riflessione un pochino più nel contesto, 7 milioni per mai te, dovessimo riuscire a vendere anche i Anko, a 5, 6 milioni, se ci fosse qualche pazzo che offrirebbe addirittura 6 milioni, riuscissimo anche a dare via qualche altro esubero, insomma, potremmo comunque farci un certo gruzzolo, da una parte, per risanare un po' i debiti di questi ultimi anni, che non sono enormi, ma per il Toro sono una cifra comunque notevole, dall'altra, ragionando proprio su due piedi, facendola facile facile, poi magari io mi sbaglio, perché in economia non so niente, e non ho fatto i conti in tasca a Cairo e al Toro negli ultimi due giorni, per cui potrebbe anche essere che mi dicano, guarda, la strategia del mercato è totalmente un'altra, però, così, su due piedi mi vorrebbe a dire, una parte la si spende nel mercato, o un'altra la si usa per risanare un po' le tasche della società. Così, riparisco, le mie sono argomentazioni molto spesso fatte così, basate sulla mia riflessione, come peraltro penso funzioni per molti di voi, insomma, non siamo economisti e non siamo vicini alla società, per cui cercando di ragionare con una certa obiettività, senza stare lì a dire, ah, Cairo di qui, Cairo di là, cerchiamo ogni anno, poi alla fine, a dicembre, forse arriverò qua, di nuovo ci frusteremo tutti in testa, però io almeno in questo momento voglio ragionare con obiettività, senza andare lì ad attaccare società, staff, giocatori, completamente a caso. Smettiamo una pietra sopra l'ennesima dopo questa stagione e pensiamo alla prossima. Così sarà il mantra di questa sessione di cangio mercato. Serve crederci, forse per un'ultima volta, una penultima, non lo so, nella speranza che alla terza volta possiamo rialzarci davvero e tornare a giocare a un livello che ci spetta, un livello sicuramente migliore di questo. Io vi saluto, il video è venuto più lungo di quanto pronosticarsi, una buona serata e ciao ragazzi.